Sono state presentate questa mattina alle 11 nella Sala Orientale dell'Hotel Jolly a Palermo i candidati di Camera e Senato della Regione Sicilia. Una conferenza stampa coordinata da Giuseppe Lupo, segretario del Partito Regionale, che ha visto tra i protagonisti due capilista, Flavia Nardelli nella lista Sicilia 1 alla Camera e Corradino Mineo, capolista al Senato. Non sono mancati i ringraziamenti a Bersani. La Nardelli ha ricordato che in un momento così complicato del Paese scegliere una donna è indicativo di un'attenzione al mondo femminile che può portare a un elemento di forte discontinuità rispetto al passato e di concretezza importante. Per l'ex direttore di Rai News 24 è stato un grande onore ricevere la proposta di candidatura da Bersani perché ha spiegato la politica gli interessa, è sempre stata una sua passione e licenzia le critiche fatte ai giornalisti come ipocrite. È normale che ci sia questa spinta di persone che decidono di fare politica, ha detto anche di giornalisti, è una ricchezza e non un limite. Così come una ricchezza lo sono state anche le primarie perché scegliere il leader della coalizione ha continuato è stata una rifondazione del partito nei fatti. Questo ha dato una libertà al PD che prima non c'era. La campagna elettorale in Sicilia è dunque partita.